I licenziamenti e quindi la crisi vissuta dall'azienda somace di San Vittore del Lazio, specializzata nella costruzione di barriere di sicurezza New Jersey, omologate, è da imputare alla carenza di infrastrutture che vive la provincia di Frosinone. L'assenza di un sistema infrastrutturale adeguato, rispondente all'esigenza odierne delle imprese attive sul territorio, non solo rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico ed occupazionale, in quanto rende sempre più difficile l'attività quotidiana delle imprese ed allontana l'attenzione di eventuali investitori interessati a produrre in Italia e nello specifico nella provincia di Frosinone, data anche la posizione strategica di crocevia tra la capitale e la vicina Napoli, ma si ripercuote inevitabilmente sull'economia delle aziende, che come la somace producono pezzi, nel caso in oggetto barriere New Jersey, indispensabili alla costruzione di arterie stradali. Il consigliere regionale di Forza Italia Pasquale Sciacciarelli ritiene che si debba fare quadrato intorno ai lavoratori dell'azienda, che ora vedono venire a mancare una fonte di reddito vitale. La crisi, vissuta dalla somace, dice, è un ulteriore duro colpo per il territorio, che vede imprese un tempo attivo ed efficienti, costrette a cessare la produzione. Bisogna puntare sulla competitività in termini di servizi e infrastrutture, in modo da dare slancio all'economia, innalzando gli indici occupazionali. Programmare lo sviluppo industriale, partendo dalla preparazione materiale del territorio, è la giusta ricetta che consentirà alle imprese di vivere e non di sopravvivere, di emergere dal locale tessuto industriale, proiettandosi in una dimensione internazionale.